La gente vuole sapere dove allenerai tu l'anno prossimo E per questo volevo coinvolgere No, no, manca ancora troppo tempo Eh no, esatto, io ti voglio chiedere In questo momento, sincero, senza dire dove Tu sai dove andrai? No, assolutamente Abbiamo preparato per te le carte del nostro gioco del Bomber Advisor Qui dietro queste carte Nessuno di voi le vedrà mai, né a casa né in studio Ci sono i simboli di alcune delle squadre più accreditate ad averti come allenatore Vieni qua di fianco a me, così nessuno ci vede Cerco io di indovinare dove andrai Ok Finché non rimane solo una carta Che io metterò dentro questa busta Tu me la firmi chiusa E io l'aprirò solo se avrò indovinato Se avrò sbagliato non saprete mai niente Se avrò indovinato, non so, ad agosto, a luglio Io su Instagram vi dirò Ah, avevo un... Ok? Ok Allora, innanzitutto quali sono le caratteristiche di una squadra Però questo dimmelo Cioè tu dov'è che andresti? Una squadra... Guarda, io andrei sicuramente in una squadra che comunque Ha un progetto che mi convince E allora questa Questa la leviamo sui Allora Ok No, dai Spero che non si veda No, 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 non si vede niente È solo fra me e te Però sinceramente Allora, poi vediamo un po' se indovino Progetto... Eh, progetto più o meno queste ce l'hanno tutte Tenderei a dire queste due qua no No, sono... Queste due qua no Dai Ben occupate Beh, una è occupata L'altra pure Poi insomma si mangia male Ce l'hai detto Poi... No, no, no Poi Ah... Una levala tu Una dove tu non andresti Non la vede nessuno Levala tu Guarda, guarda anch'io In questo momento Sì Beh, due Due ne levi? Due, due Ah... Cavolo, una era una delle mie finaliste invece Pensa un po' Non vedi che te l'ho distrutta subito? Mamma mia No, è che adesso qua la questione si fa seria Però aspetta perché Dai, ti prego qua no Dai, cioè Lì c'è già il progetto Eh, eh C'è già il progetto Lì c'è un progetto Sì Ah... Qua... Aspetta, eh Devo ragionare di cuore o di ragione Aspetta, facciamo Eh... Aspetta che metto qua che non si vede niente Però erano, erano rimaste delle ultime tre Effettivamente le più... Erano le... Ah sì? No, cioè nel senso che Non eri andato tanto Non ero andato lontano No, no Antonio Conte Questa è la sua busta A luglio Quando è che ti annunciano se vai in una squadra? A giugno A giugno A giugno Non saremo in onda in quel momento con il PCC Vi comunicherò se ci avevo azzeccato o no Intanto fate un grande applauso Ad Antonio Conte Davide, grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti